Allora, proprio mentre eravamo in diretta è arrivata la nota di Haifa che ha chiesto immediatamente di controllare questo lotto. Fortunatamente all'ospedale militare di Baggio questo lotto non è arrivato di AstraZeneca, quindi non è stata bloccata la vaccinazione. Esattamente. Viene richiesto però ad Haifa assolutamente di controllare il numero di lotto che dovrebbe essere ABV 2856. Perché? Perché insomma per tutto quello che abbiamo detto, quindi è questa la richiesta che c'è per adesso da parte di Haifa. Ok, quindi lì si continua a vaccinare perché non è quell'otto, no, perché è importante che diamo informazioni chiare. Professor Morrone, quello che voglio...